L'ufficio di procura e investigatori della Digos e della Questura rafforzano l'impianto accusatorio a carico del consigliere comunale Antonino Castorina, l'ex capogruppo del Partito Democratico indicato come la mente dei presunti broie elettorali, quando alle urne per il rinnovo di Palazzo San Giorgio nel settembre del 2020 sarebbero andati a votare anche decine e decine di persone, in realtà invalide, inabili, disaffezionate per la politica ed addirittura anche chi più di un secondo la Polizia di Stato che ha condotto le indagini era deceduto. Il report sui messaggi in uscita ed entrata sul cellulare e sulle chat telefoniche del consigliere Castorina è finito agli atti dell'udienza preliminare, il cui giovane politico Reggino e una ventina di presidenti di seggi e scrutatori stanno così affrontando. L'input era stato preciso, al fine di ricavare elementi utili per le indagini, Codesta Autorità Giudiziaria aveva codelegato il locale compartimento di Polizia Postale e delle telecomunicazioni Calabria l'estrazione di copie a Forens in relazione agli apparati cellulari, tablet e computer rivenuti nella disponibilità degli indagati, ma con il recupero di tutti i file, i chat, i messaggi, anche persino quelli di WhatsApp, i vi compressi quelli cancellati.